Si è appena conclusa la sessione di qualifiche qui sul circuito del Mugello per il sesto round stagionale del campionato Zinox F2000 Formula Trophy con la prima pole position stagionale ottenuta da Francesco Galli davanti a Giugio Noda e Benjamin Baird. Siamo dunque in compagnia dei primi tre classificati al termine di questa qualifica. Partiamo dall'autore della pole position, quindi Francesco Galli, team G Motorsport. una grande soddisfazione essere riuscito a realizzare la tua prima pole position stagionale su un tracciato particolarmente impegnativo come quello del Mugello. Certo, è stato la fine di un lavoro iniziato a novembre dell'anno scorso, macchina nuova, campionato nuovo, tutto nuovo. Poi quando si mettono insieme le condizioni, l'allenamento, il team, la mentalità anche che tanto serve per questo sport, quando è tutto al 100% poi ci sono questi risultati qui. Come hai trovato le condizioni della pista, fa molto più caldo rispetto al primo round stagionale, però avete testato anche nel corso dell'estate, insomma pista non semplice da affrontare, in gara sarà anche importante la gestione delle gomme naturalmente? Sì, certo, servirà a gestire soprattutto a gara 2 che ci sarà questo caldo, ma a noi preoccupa poco, molto poco il degrado. Grazie a Francesco Galli, complimenti dunque all'autore della pole position. Giugio Noda, second place for you, a good result. So what is your feedback about this qualifying session here in Mugello? Yeah, it was a good qualifying, but it's too much traffic, so I'm disappointed about that. But I couldn't get clear up at all, so and some people doesn't respect blue flag, so I'm disappointed about that, but still I got a P2, so I'm looking forward to tomorrow's race. Yeah. Thank you. Thank you very much. Allora naturalmente Giugio Noda, soddisfatta della sua seconda posizione, un po' di traffico che l'ha condizionata durante la qualifica, però stanno lavorando duramente insieme al team e naturalmente sono pronti per vivere una giornata di gare tutta all'attacco. Andiamo da Benjamin Berta, terzo classificato, l'attuale leader della classifica assoluta. So Benjamin, a good result for you, P3, so in your opinion will be possible to fight obviously with Francesco and Giugio tomorrow, what is your hope for tomorrow? I think of course we can fight with Galli and also Giugio, I think I will be P1 at the end of the first lap and I think that we should fair play or do a fair play on track, otherwise it's not not sport, so and also I will do anything to win the race. Thank you very much, grazie a Benjamin Berta, il quale ha detto sicuramente sarà una bella battaglia domani in gara tra me, Francesco e Giugio, sono convinto che faremo tutti uso del fair play, quindi non ci saranno problemi durante la gara, lotteremo duramente anche perché i punti in palio sono davvero importanti qui in occasione di questo sesto e penultimo round stagionale. E allora noi ringraziamo Francesco Galli, Giugio Noda e Benjamin Berta per essere stati qui con noi nella conferenza stampa al termine delle qualifiche, appuntamento naturalmente sui nostri canali social con tutti gli aggiornamenti. Cari amici siamo giunti al termine di questa sessione di qualifica qui sul circuito del Mugello per quanto riguarda i protagonisti del campionato Zinox F2000 Cup, ricordiamo in questa occasione format di qualifiche che ha previsto la suddivisione delle quasi 40 vetture al via in due gruppi, e allora adesso siamo in compagnia appunto con i primi tre classificati di questa classe, partiamo naturalmente dall'autore della pole position Karim Sartori, secondo tempo per Stefano Palumieri, terzo tempo per Matteo Immordino. Karim Sartori, un bel modo per iniziare il weekend, insomma il tuo feeling con il Mugello non si smentisce neanche in questa occasione e naturalmente l'obiettivo è quello di completare l'opera anche nelle due gare di domani. Sì, è andata molto bene, sono riuscito a fare quattro giri molto buoni, non ho trovato traffico, sì qua mi trovo sempre molto bene e speriamo adesso partiamo da una buona posizione e speriamo domani di riuscire a fare due belle gare. Come va, Karim, questo format che vi ha consentito di suddividervi il tempo a disposizione con i piloti dell'F2000 valido, anche se ci sono state un paio di interruzioni con la bandiera rossa? Sì, io mi trovo molto bene con questo format anche perché, ok, riusciamo a fare pochissimi giri, però sono, almeno io, non ho trovato traffico e quindi sì, mi piace molto. Grazie, complimenti a Karim Sartori. Adesso andiamo a sentire le parole del portacolori PLM Racing, ovvero Stefano Polumieri. Secondo tempo per te, Stefano, arrivi qui al Mugello nella veste di leader della classifica. L'obiettivo sarà quello di fare altrettanto al termine di questo fine settimana. Sì, sì, Marco, è così. No, sono andate le qualifiche abbastanza bene, il problema è che ho trovato tantissimo traffico. Sicuramente è meglio il format che va a dividere a metà la griglia, però questa volta sono stato un po' più sfortunato col traffico. Ho fatto solo un giro, infatti domani partiremo, penso, molto molto indietro. Complimenti a Karim, veramente ha fatto un ottimo giro. E anche a Imordino, ce la metteremo tutta per domani. Grazie anche a Stefano Polumieri. Adesso andiamo all'autore del terzo tempo, Matteo Imordino, scuderia Derva Corse. Matteo, come valuti innanzitutto questo format? Ti chiedo se hai trovato traffico nel corso delle qualifiche. In ogni caso mi sembra di poter dire una buona prestazione per quanto ti riguarda. Sei soddisfatto? Sì, ciao a tutti. Innanzitutto soddisfatto a metà perché dal mio punto di vista avremmo potuto fare meglio. Per quanto riguarda inizialmente la qualifica era partita bene perché siamo parli davanti al gruppo, quindi poco traffico. Poi la bandiera rossa ha creato un po' di scompiglio e questo ha inciso molto perché abbiamo trovato molto traffico. Abbiamo faticato, abbiamo trovato vetture che non stavano tirando e abbiamo fatto solamente un giro tirato. Ecco, in sé diciamo che il format è sicuramente ottimo perché dividono le vetture che diciamo hanno più cavalli rispetto a noi e niente dai speriamo adesso di domani fare due gare e concretizzare quello che abbiamo iniziato a fare nella giornata di oggi. Molto bene, ringraziamo allora anche Matteo Immordino e complimenti a te Matteo e all'autore della Pole Position Karim Sartori così come a Stefano Palumieri. Domani due gare sicuramente tutte da seguire con il via alle 9.40 gara 1 e alle 14.40 gara 2. Ricordiamo l'appuntamento in diretta streaming sui canali social del campionato e anche in tv canale 229 di Sky su MS Motor TV. Per un momento qui dal Mugello è tutto, appuntamento sui nostri canali social con tutti gli aggiornamenti.